Iniziamo la nostra prima lezione di Pilates Matwork con il primo esercizio Half Roll Down. Ci sediamo sul tappetino con le gambe separate come le anche e piegate, braccia altezza-larghezza delle spalle, curva C della schiena e sguardo alle ginocchia. Inspirando scendiamo con le prime vertebre verso il palmento, rimaniamo in posizione trattenendo il fiato ed espirando risucchiamo l'ombelico e torniamo in posizione iniziale. Inspirando scendiamo, tratteniamo il fiato ed espirando in dentro l'ombelico. Ancora in, trattengo il fiato ed es, salgo. Facciamo l'ultimo, inspiro, trattengo il fiato ed espiro, ritorno. Con questa curva della schiena ci sdraiamo al pavimento. Braccia lungo i fianchi, portiamo le gambe al petto, mani sulle ginocchia e ci prepariamo per 100. Solleviamo testa e spalle se non sentiamo dolore a livello cervicale. Le gambe sono a tavolino, 90 gradi, braccia allungate avanti. Il movimento sarà solo delle braccia in su e in giù velocissimo per 5 secondi l'inspirazione e 5 secondi l'espirazione. E vai, inspiro in 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. In 1, 2, 3, 4, 5. Espiro in 1, 2, 3, 4, 5. Ancora in 1, 2, 3, 4, 5. Espiro in 1, 2, 3, 4, 5. Ancora in 1, 2, 3, 4, 5. Espiro in 1, 2, 3, 4, 5. Ancora in 1, 2, 3, 4, 5. Espiro in 1, 2, 3, 4, 5. qui appoggio testa e spalle, porto le gambe al petto, sciogliamo il collo muovendo la testa destra e a sinistra, teniamo una sola gamba al petto, piede a martello, mani sotto al ginocchio, andiamo ad allungare la gamba e a fletterla in modo da allungare tutta la parte posteriore della muscolatura della gamba e della coscia, non è importante arrivare con la gamba iperestesa, ma è importante sentire l'allungamento dei muscoli, ultima ripetizione, rimaniamo con la gamba allungata, mani verso il polpaccio, tiriamo un pochino di più, le spalle sono morbide e rilassate e adesso lasciamo la gamba a 90 gradi, le braccia lungo i fianchi per one leg circle, inspirando andiamo con la gamba verso il naso ed espirando disegniamo una piccola circonduzione, inspiro ed espiro cerchio, cerchiamo di non muovere nulla sotto, il busto, la gamba ferma, solo la gamba alta si muove e espiro cerchio e cambiamo senso, in al naso ed es circonduzione, questa circonduzione ci servirà per sciogliere tutta l'articolazione dell'anca e dobbiamo visualizzarla sulla testa del femore che ruota all'interno dell'anca, ultima ripetizione, gamba al petto e sciogliamo, facciamo il cambio, mani sotto al ginocchio, piede a martello, allunghiamo la gamba e la flettiamo, ancora, sempre più allungata, ogni ripetizione un pochino più tesa la gamba e mani sul polpaccio, tiriamo bene la gamba, respiriamo profondamente, sentiamo allungare tutta la muscolatura e adesso gamba 90, braccia lungo il fianchi e circonduzioni, inspirando verso il naso ed espiro il cerchio, uno e due e tre e quattro, cambio senso, ancora in al naso ed es tutta la circonduzione, uno, vai due, tre, quattro, gamba al petto e sciogliamo, portiamo anche l'altra gamba al petto, mani sulle ginocchia, ci diamo una spinta, ci solleviamo e allunghiamo le gambe avanti per spine stretch forward, gambe tese, braccia altezza larghezza delle spalle, schiena retta, se la schiena fa fatica a rimanere retta potete flettere leggermente le gambe, inspiriamo da qua ed espirando scende il mento, pugno nella pancia e massimo flessione avanti, inspirando ritorniamo in posizione iniziale ed espirando mento all'esterno, ombelico in dentro e allunghiamo il busto dal giro vita in su, inspiro ed espiro ancora a lungo, a lungo, a lungo, a lungo, inspirando torniamo in posizione ed espirando pensiamo che qualcuno ci tiri dai polsi e inspiro e sciolgo le braccia, portiamo i piedi dietro e ci posizioniamo in quadrupedia. Ci prepariamo per il gattino, quindi inspirando facciamo una gobba, il mento va all'esterno, i glutei in sotto ed espirando schiacciamo la pancia al pavimento, i glutei al soffitto e alziamo un pochino il mento, inspiro gobba ed espiro e allunga, ancora in ed espiro e allunga, ultima ripetizione ed espira e adesso schiena piatta, ruotiamo le dita dei piedi, solleviamo il bacino e cerchiamo di allungare le gambe e di portare i talloni verso il pavimento, camminiamo con le mani verso i piedi, collo morbidissimo, srotoliamo la schiena lentamente, saliamo e arriviamo in piedi. Siamo al centro e abbiamo finito questa nostra prima lezione di Pilates Network.